Ciao a tutti lettori e lettrici, bentrovati sul mio canale, io sono Martina e oggi parliamo di un po' di poesia. Ciao lettori, ciao lettrici, bentrovati o benvenuti sul canale. Vi avevo anticipato qualche settimana fa che avrei realizzato un video sulla poesia, se l'idea fosse stata gradita e diversi di voi mi hanno scritto dicendomi che sì, perché no, quindi il video di oggi sarà l'occasione per potervi presentare alcune delle raccolte di poesie che ho letto ultimamente o che mi sono piaciute particolarmente e che tengo vicine al mio cuore, ma praticamente da sempre. Mi piacerebbe molto sapere se la poesia rientra nei vostri gusti di lettura, se vi piace leggere poesia. È un argomento di cui si parla poco, normalmente qui nel mondo di booktube si parla di romanzi, si parla di non fiction, di poesie effettivamente un po' meno. Quindi vorrei approfittare di questo spazio anche per sapere come vivete il rapporto con la poesia. Scrivetemi sotto nei commenti, scrivetemi quali sono i vostri autori o autrici preferite e qualsiasi altra considerazione vi faccia piacere. Io ho sempre avuto un rapporto speciale con la poesia, a me piace molto sia leggere che scrivere poesia. Scrivo poesia praticamente da sempre, è un genere a cui ritorno di frequente ed è uno di quei generi che rispondono un po' alle esigenze più profonde dell'anima, rispondono a quel bisogno di sfogare un'emozione. Mi piace scrivere poesia per, non so, tante cose, un po' quando sono arrabbiata, un po' quando sono triste, a volte anche quando sono molto felice. E a volte mi piace lavorare sulla poesia, quindi provare, sapete, degli espedienti metrici o delle figure retoriche particolari, giocare con le allitterazioni, giocare con un certo tipo di assonanza, con le sinestesie. Mi diverte molto e lo trovo anche estremamente terapeutico. Ci sono dei momenti in cui mettermi lì a scrivere poesia mi permette di concentrarmi molto e anche di scaricare delle tensioni, delle difficoltà. In generale invece la lettura della poesia la associo a momenti vari. Secondo me i libri di poesia non si leggono tutti d'un fiato, non è come leggere un romanzo, un bel thriller che ti avvolge fin dall'inizio e vuoi scoprire come va a finire, no. Con la poesia è tutt'altro, la poesia molte volte è bibliomanzia, cioè apri una pagina a caso e lasci che il libro ti parli. Io tante volte con i miei libri di poesia faccio così. Non mi piace tantissimo andare a scoprire autori nuovi, vi devo dire la verità, ho un po' le mie coperte di Linus, quegli autori cari a cui ritorno spesso. Ogni tanto sì, cerco anche delle cose nuove, leggo delle proposte nuove, perché no? Però mi accorgo che sono un pochino più scettica in questo senso e preferisco ritornare a quelli che mi sanno dare determinate sensazioni. Sono un po' la mia comfort zone, proprio la vera comfort zone, la zona che mi trova nel momento in cui ho bisogno di amici fidati. Quindi vi faccio vedere alcuni libri. Alcuni sono proprio libri cari, altre sono delle scoperte più recenti, proprio perché comunque non è che mi chiuda di fronte a tutto quello che è nuovo. Un libro bellissimo per me è Resteranno i canti di Franco Arminio. È un poeta italiano, è un autore, ha scritto tantissime raccolte, lui si definisce un paesologo, cioè uno studioso del paesaggio e anche un attivista, cioè lui difende le realtà e i significati dei piccoli paesi. Questa è una delle sue raccolte di poesie che preferisco, Resteranno i canti, la trovo davvero capace di dare risposte. Parla di tante cose Franco Arminio, parla di tematiche esistenziali, parla di vita, parla di morte, parla della paura della morte, parla anche del rapporto con il luogo in cui ci si trova, quindi il paese. Il paese, la realtà piccola, la realtà boschiva alle volte, ma anche civica, quindi il luogo dove si incontrano tante personalità diverse, la piccola realtà nella quale possono accadere grandi cose. Lui fra l'altro scrive alternando sia i versi brevi alle scritture in prosa, che è una tecnica molto frequente in realtà nella poesia contemporanea, la troverete anche in altre raccolte. Guardate per esempio qui, c'è questa poesia brevissima, sono pochi versi, e poi accanto c'è un'intera pagina scritta proprio come se fosse un testo in prosa. E a me questa alternanza di versi, diciamo tradizionali, a delle forme poetiche più estese piace molto. Io la trovo molto attuale come forma, molto fluida in questo senso, perché è la forma del testo che si adatta all'esigenza espressiva di chi vuole attraverso la scrittura comunicare un'emozione o un'inquietudine o una paura. Bene, leggo un pezzettino di una, una di quelle che mi piacciono di più, che fa così. E comunque pure se moriamo, non è che poi possiamo morire un'altra volta. Allora andiamo nella giornata da signori, il bene sia benedetto, benedetto l'andare in giro, e ancora il pranzo, e scrivere a qualcuno, leggere, camminare, guardare un muro. Io lo trovo molto diretto e, come vi dicevo, risponde proprio a delle esigenze interiori che in lui hanno delle conferme. Una donna adesso, una donna di cui vi ho parlato tante volte in altri video, e lei è una delle scrittrici che normalmente vengono consigliate agli scettici della poesia, a chi pensa che la poesia sia complicata, a chi pensa che la poesia non sia decodificabile, e si tratta di Wyslava Zimborska, un'autrice, fra l'altro, insegnata il premio Nobel, famosissima, che ha pubblicato tante raccolte di poesie, in Italia ne sono arrivate diverse, voi troverete per Adelphi diversi volumi. Io vi consiglio La Gioia di scrivere, sicuramente, è un bel tomone che raccoglie le sue poesie dal 1945 al 2009, e qui, insomma, c'è un po' di tutto, e vi fa capire lo stile di questa autrice, che parla di tantissime cose nelle sue poesie, è una scrittrice che si consiglia perché ha uno stile molto diretto, lei riesce a trasformare in poesia qualsiasi cosa. Io trovo che le sue poesie d'amore siano bellissime, sono fra le poesie d'amore più belle che io abbia mai letto, ma a me fa anche sorridere il modo in cui lei riesce a rendere poetica l'esperienza pragmatica del vivere quotidiano, anche nelle cose che poesia difficilmente diventerebbero. Per esempio, c'è questa famosa, tanto per dirvi, che si chiama scrivere il curriculum, e la poesia, scritta in versi, sono delle terzine all'inizio, poi cambiano, comincia così. Che cos'è necessario? È necessario scrivere una domanda, e alla domanda legare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve. A me fa sorridere, vedete, questo modo di sintetizzare e di rendere anche un po' ironico il modo che abbiamo di prendere forse la vita un po' troppo sul serio, quindi lei mi piace molto. E una delle sue raccolte che preferisco comunque è questa qui, Amore a prima vista, perché come vi dicevo, a me piacciono moltissimo le sue poesie d'amore, quindi qui troverete una selezione di poesie, che in realtà sono presenti anche all'interno della gioia di scrivere, però qui trovate proprio la selezione solo con le poesie d'amore. Io ho studiato lettere, insegno italiano, quindi con la letteratura e la poesia ho spesso le mani in pasta, perché comunque ci sono degli autori che riproponiamo di frequente, però nel mio cuore, fra gli autori italiani, c'è proprio uno in testa, che è imbattibile, non lo ha mai battuto nessuno, e io lo amo particolarmente, perché lo trovo capace di toccare delle corde profondissime con pochissime parole. C'è chi dice che la poesia si ha la capacità di dire molto con poco e c'è questo rapporto inversamente proporzionale, no? Per cui più riesci a dire con il minor quantitativo possibile di parole, più sei arrivato al punto, più hai fatto poesia. E secondo me non c'è autore italiano che sia riuscito a fare questo meglio di Giuseppe Ungaretti. Io ho diverse sue raccolte, qualcune da mia madre, comunque questa è una raccolta di pochissimo valore, uscita in edicola col Corriere della Sera, ma raccoglie una serie di sue poesie, c'è chiaramente il Porto Sepolto, poi c'è la morte meditata, c'è il sentimento del tempo e ci sono le prime. Le prime sono delle poesie composte fra Parigi e Milano nel 1919 e sono delle poesie dove utilizza quella stessa tecnica che abbiamo visto in Franco Arminio. Alcune sono molto brevi, così come ci ha abituato, no, Ungaretti? Pensate a... si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie o mattina mi illumino d'immenso, cioè poesie veramente brevissime, però accanto a queste ci sono poi queste, che sono prose poetiche, come Franco Arminio. Quindi questa tecnica dell'alternare la poesia molto concisa, molto breve alle prose poetiche, ha uno storico nella letteratura italiana ed è una componente, secondo me, molto bella del raccontare. A me è sempre piaciuto il suo modo di scrivere, soprattutto le poesie di guerra. Io non so perché hanno su di me un effetto sempre ipnotico, magnetico, catalizzano la mia attenzione e le amo particolarmente. Il prossimo invece è uno scrittore inglese, che anche qui è molto famoso, forse è uno di quegli scrittori di cui si ha più paura, perché è Elliot, l'autore di The Wasteland, La Terra Desolata, un autore considerato criptico, un autore molto complesso, da cui solitamente gli studenti di letteratura inglese rifungono, perché è un autore sia affascinante, però anche molto difficile da decifrare. A me piace in particolare una sua raccolta che non è molto famosa, ma a me piace per i rimandi personali che io associo, ed è Il Libro dei Gatti Tutto Fare. Questo libro, illustrato poi da Edward Gorey, è in pratica il testo da cui sono state elaborate le canzoni del musical Cats, un musical che io ho messo in scena a teatro, ho fatto diverse volte, anche quando ero ragazzina, quindi sono molto legata a questo musical, a questi testi. Che cosa fa lui in questa raccolta? In pratica ci presenta tutti questi gatti, gatti umanizzati, con delle caratteristiche appunto molto simili a quelle degli esseri umani, gatti che fanno anche dei mestieri, il gatto ferroviere, famosissimo, Skimbleshanks, o il gatto cattivo, il gatto seduttore, Ramtan Tugger, ce ne sono tanti di questi personaggi, e questi gatti che animano queste pagine poi diventano i protagonisti del musical. Sono delle poesie estremamente piacevoli da leggere, fra l'altro, e sono assolutamente decodificabili, sono anche belle da leggere perché, sapete, gli inglesi tengono molto all'aspetto della letterazione, loro usano molto queste parole anche onomatopeiche, questi suoni che si ripetono, che rendono il senso a livello fonico di ciò che il personaggio vuole rappresentare, e quindi questa è una raccolta a cui sono particolarmente affezionata. Poi vi voglio indicare anche questa, fra le mie raccolte più care, questa è una raccolta di poesia che ha scritto un mio amico, quindi dice, ma perché gli stai facendo pubblicità? E perché no, che male c'è? Ma comunque non è tanto questo il punto, il fatto è che si tratta di una raccolta di cui in realtà vi ho parlato in passato, che per me è stato doppiamente interessante leggere, perché io sono consapevole del vissuto che ha portato questo amico alla scrittura di queste poesie, la raccolta è Scendevi per strada di Daniele Giustolisi, l'edizione è Capire, Capire Edizioni, ed è una raccolta di poesie che elaborano un periodo particolare della vita che è il raggiungimento della soglia dei 30 anni, cioè un momento generazionale importante, un momento del quale se ci fate caso in letteratura oggi si parla poco ancora, non ci sono tante pubblicazioni su questo argomento, della crisi generazionale del trentenne degli anni 2020, 2018, se ne parla molto molto poco, e lui lo mette in poesia, rielaborando fra l'altro dei vissuti personali di viaggio, di vita, lui siciliano come me però non vive più qui, quindi vita a Bologna, vita a Londra, abbiamo questa parte della vita in comune, fatta in momenti diversi, comunque questa esperienza di vita in Inghilterra ce l'abbiamo tutte e due, e quindi io mi sono trovata molto in questa in questa cosa, e ve ne leggo una, breve, una poesia d'amore, che è una delle mie preferite, scroscia la pioggia fuori, la campana suonora, e piovono fiati da una finestra ubriaca che pare una guerra che inizia, ma a noi due qui dentro che importa, siamo su Dario di corpi molli, questo mattino, in un abbraccio d'amore che non sa trattenere, mi piace molto anche perché lui fa una ricerca molto accurata sulla metrica, sul verso, che non è solo appunto scrivere, non è solo mettere nero su bianco delle emozioni, ma è proprio fare un lavoro sulla quantità del verso, lavorare sulla struttura della poesia, che non è sempre facile, e un'altra che vi voglio assolutamente segnalare è The Gesture Rhymes di John MacDillan, ve ne avevo parlato in passato, ho ricevuto questa goliardica e divertentissima raccolta di poesie che fa parte fra l'altro di una serie di altre pubblicazioni create da John MacDillan, che è uno pseudonimo di un autore italiano creatore del bizzarrismo, e anche qui una raccolta di poesie e negli altri volumi ci sono delle novelle che giocano con l'illettore, che riportano in audio la figura del giullare, la figura del giullare che ha una sua tradizione nella nostra cultura letteraria italiana, pensate a Mistero Buffo di Dario Fo, quindi abbiamo sempre dei percorsi nei quali doverci collocare. A me ha divertito tantissimo leggere questa raccolta perché è molto sperimentale, sperimenta, gioca proprio come facevano i giullari, in modo ludico, ma attraverso il modo ludico cerca di veicolare dei significati importanti, cioè il valore della diversità. Il significato di fondo è quello di non piegarsi, di non adagiarsi su ciò che il normaloide considera accettabile, ma provare sempre delle nuove strade, delle alternative, quindi essere stravaganti è una possibilità di affermazione che poi a volte essere stravaganti, il modo più eccezionale per essere stravaganti è proprio quello di essere normale, ma normale non normaloide, quindi c'è anche questo aspetto, è molto divertente, tra l'altro si presta anche tanto all'adattamento teatrale e noi lo utilizziamo con la compagnia. Andiamo a finire, voglio proporvi un altro italiano, questo l'ho letto di recente, l'ho ricevuto dall'autore su mia richiesta, l'ho richiesto io e me lo ha inviato e sono molto contenta di averlo letto perché secondo me si colloca bene nella linea che vi ho un po' anticipato con Franco Arminio e con Giuseppe Ungaretti per cosa? Per, non per le tematiche, ma quanto più per questa alternanza di stile, il verso che si alterna con questa prosa poetica. si chiama Sedimenti, questa raccolta scritta da Andrea Kegi, la trovo una raccolta estremamente attuale e vi voglio leggere gli appunti che io ho preso mentre lo leggevo, ho segnato questo, c'è qualcosa che non si riesce ad afferrare e continua a sfuggire in questi sedimenti, come il graticcio sul letto di un fiume in piena, non si afferrano i rapporti, le persone, certe visioni di se stessi, ci sono delle disperse illusioni meccaniche dove i rapporti elettrici vibranti di vita non entrano in sintonia con i rapporti elettronici smagnetizzati e gelidi. C'è questo continuo indagare se stessi e sentirsi in distonia rispetto a quello che è il mondo circostante, le persone, i contatti. Ho visto in luce questa differenza che ti ritorna varie volte secondo me anche a livello sotterraneo in questa raccolta tra rapporti elettrici e rapporti elettronici. I rapporti elettrici sono i rapporti umani, sono fatti di uno scambio di contatto, di vibrazioni fisiche, di quel intercambio naturale che avviene attraverso uno sguardo, una mano sfiorata, una carezza, un sorriso e mentre i rapporti elettronici sono dei rapporti smagnetizzati, sono privi della reale concretezza di quello che possono trasmettere. C'è un grande senso di ricerca di sé all'interno di questa forma del fare poesia che ancora una volta alterna delle poesie in versi mi è caduto un sacco di roba con della poesia in prosa che rielabora fondamentalmente questi temi. Ci sono anche delle accuse non troppe velate nei confronti dei presunti poeti, quelli che sono i cosiddetti poeti blasonati ma poi magari hanno poco da dire molta forma da rispettare c'è questa poesia che fa così poeti maledetti maledetti poeti accademici e filantropici vanesi ricconi senza paure senza storture e così perfetti sotto i riflettori avete il tempo per passeggiare in centro poi la poesia continua e lunga però per farvi capire un po' anche lo spirito aggressivo che emerge e questi sedimenti restano nel lettore resta qualcosa è bello che resti qualcosa che non tutto se ne vada per i fatti suoi in maniera completamente inafferrabile o senza valore è bello che qualcosa rimanga e a proposito di cose che rimangano e a proposito di poesia non posso non inserire in questo video i libri di Rupi Kaur una scrittrice che per me in questo momento così come per tantissime altre donne al mondo è uno specchio al tornasole è quell'autrice che è riuscita a dire quelle cose che noi non sappiamo dire e per questo non la ringrazierò mai abbastanza io ho due suoi libri Milk and Honey che ho letto in edizione originale in inglese e poi il più recente Homebody che invece ho comprato in italiano ma voglio recuperare l'edizione originale perché secondo me è meglio e sono dei libri in cui lei parla di molte cose parla di amore parla di violenza perché lei è stata vittima di abusi ma parla anche di amore per se stessi Milk and Honey è una raccolta suddivisa in quattro parti The Heart in The Love in The Breaking and The Healing che io adesso in italiano non so di preciso come è stata tradotta nell'edizione italiana comunque ha senso è la ferita l'amore la rottura e la cura e in questa raccolta in particolare lei affronta il tema dell'abuso fisico della violenza fisica e psicologica che ha subito il tema dell'amore l'amore che doveva essere curativo e che è diventato invece un ulteriore trappola ed è secondo me un tema molto molto forte e soprattutto la parte finale quella della cura scoprire come l'amore che ha fatto quell'amore sbagliato quell'amore malato che l'ha fatta ferire che l'ha fatto male che l'ha lacerata nel profondo può diventare in altri termini e con altre intenzioni una cura una terapia homebody invece è secondo me è un po' meno sfogo rispetto a milk and honey però è più maturo quindi c'è un'elaborazione di tematiche anche di più ampio raggio c'è sempre questo tema della violenza dell'elaborazione della violenza però non è l'unico tema si affrontano anche degli aspetti più relativi alla consapevolezza di sé alla crescita personale al valore della vita si affronta il tema della depressione in più di un passaggio ma anche il tema del lavoro del lavoro che a volte diventa stacanovismo che diventa snervante che prosciuga tutta la limpa vitale mentre è necessario anche avere il riposo infatti il libro è diviso anche in questo caso in quattro parti sono delle antitesi che cercano una sintesi che cercano un punto di incontro mente cuore riposo veglia io ho trovato particolarmente belle riposo e veglia le ultime due parti non che le prime due siano da meno però ho trovato molto interessante il modo in cui lei elabora questo tema dell'essere sempre presenti dell'essere sempre sul pezzo dell'essere sempre performanti di quanto questo modo di vivere sia negativo sia controproducente e sia infiammatorio ecco faccia male alle persone e invece bisogna ritrovare nel 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 riposo la dimensione di rispetto fa anche riferimento all'esperienza lavorativa dei familiari comunque è una autrice che sa parlare a tantissime persone alcune poesie sono veramente molto molto brevi e sono quasi degli aforismi poi lei fa questa cosa bella secondo me bella di mettere il titolo alla fine non all'inizio per dirvi un a caso un a caso la felicità è invecchiata nell'attesa di me e io sono invecchiata a forza di cercarla laddove non risiedeva ma guardate sono una più bella dell'altra questa sono davvero bellissime e poi ci sono le illustrazioni sono ci sono questi disegni stilizzati anche in milk and honey è così sono delle poesie molto dure soprattutto in milk and honey sono molto sono spietate perché sono anche molto esplicite questa violenza che lei ha subito viene raccontata in maniera diretta senza filtri anche a livello grafico quindi anche attraverso le illustrazioni però per me lei è stata una lettura fondamentale ed è una lettura davvero che io consiglio a tutte le donne non solo alle donne per carità la consiglio un po' a tutti magari non a lettrici giovanissime perché sono appunto delle letture forti di impatti magari vanno un po' mediate da un lettore un po' più grande questa è un po' la mia esperienza con la poesia e sono molto contenta di aver fatto questo video è stato bellissimo parlare con voi di poesia è un argomento che mi riempie di luce di felicità di amore di bellezza quindi è sempre una bellissima occasione fatemi sapere appunto quali sono le vostre poesie preferite gli scrittori e le scrittrici che amate vi aspetto qui sotto nei commenti io vi mando un bacione vi ringrazio per essere stati qui come fino alla fine noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti